Non è che da 50 anni che dico monate, non sai che ho bisogno di te? Sei monate che mi cerca poi. Eh si, cosa fai? Anche i barbini ti cerca? No, poi ci si ha scampato. Pa, pa, pa. Ma io se perde. Ma che sei anche grosso? Io se perde qua. Si mette notti? Ah no, non me no. Non so più registrare con voi. Sì, si fanno. Senti, state preoccupato? Va beh. Ok. Ditto, partimmo? Dai, che c***o, non mi devo dire tante. Anche ecco. Amiche e amici di Aperitivo col Coach, il Lucetto e il Manuelito vi danno il benvenuto. Oggi con noi in studio un graditissimo Riccardo Barbi, barbiera. Benvenuto, Barbi. Benvenuto. 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 Grazie per l'invito. Benvenuto. Benvenuto, Luccio. Benvenuto. Ah, ci sei qua anche tu? Adesso qua. Mamma mia. Ah, sei il Manuelito. Non c'è il Manuelito. Barbi, carissimo. Sembra bene. Presentati. Molto bene. Allora appunto sono Riccardo Barbierato. Musica. Ho iniziato da poco, da circa un anno a produrre musica mia. Fatto bene. Eh sì. Finalmente. Ed erano anni che volevo farlo, poi con la condanna delle tribute band. sono fatto musica degli altri e adesso basta. Quindi, un po' di tutto, poi mi sembra, se non erro, sui Pink Floyd e Riccardo. Soprattutto Pink Floyd. Diciamola, diciamola. Diciamola. Come si chiama la tua band? Relics. 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 Che dal 2007 andiamo in giro a fare Pink Floyd. Non poco. Non poco. No, troppo. Troppo. Troppo, diciamo. Eh, sei trovato uno sfogo nella tua... Sì, sì, sì. No, vabbè, ma guarda, è iniziato tutto, diciamo, dal primo lockdown dove... Sì, o infazzivamo, o creavamo qualcosa. Noi abbiamo creato l'aperitivo, vedi? Ah sì, perché comunque abituati ad andare in giro a suonare e... Cioè, ti ritrovi in casa e cominci a pensare, a prendere la chitarra... Hai fatto bene. È uscito un po'... Beh, hai fatto bene, te lo diciamo dopo magari aver sentito suonare. Ma non si sa mai. Ascoltami, hai fatto un disco? Sì, ho fatto un disco. È nato un disco da questo... Ho fatto un disco, sono nove brani. Il disco si chiama In Your Hand. Ok. Nelle tue mani. Ok. Poi, come sempre, tutti i link in descrizione... Certo. Per vedere, eh. Beh, noi siamo contenti, sai, di questa tua creatività. Però c'è Manuel che, sai, ha delle esigenze. No, no, questo è grosso, chiedeglielo tu. Io chiedo io. Ehm... 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 Sì, invece, faccio un disco con i confessi. Io ho! Allora, il bicchiere è andato... Cosa ci fai sentire? Gli, gli... Gli, gli inediti? Beh, dicono... È proprio... Solo gli inediti. Ma te pecani? Ehm... 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti